Lunedì patrimonio dello sport su Ultima TV e lo sport da noi non è solo calcio. La programmazione è ampia più che mai, si comincia alle 19.45 e si conclude alle 23.30, più di tre ore di sport intervallate dal TG della Sera. Il focus iniziale proprio alle 19.45 sarà dedicato agli sport vari. La trasmissione si intitola Il lunedì dello sport condotta da Lucy Gullotta. In 25 minuti condenserà notizie e avvenimenti di pallanuoto, calcio a 5, football americano, basket e pallavolo. Ospite in studio il vicepresidente vicario del CONI Sicilia Sergio Parisi. Subito dopo il TG della Sera spazio al calcio direttantistico con direttanti tanta roba nel weekend scorso. Non si è giocato in Serie D ma la trasmissione resta sempre ricca di immagini con i riflessi filmati delle squadre che occupano le posizioni di vertice dei due gironi di eccellenza. Ospiti l'allenatore del Troina Peppe Pagana e il DG Claudio Cammarata. Dal calcio direttantistico a quello professionistico il passo è breve. Su Ultima TV alle 21.30 infatti arriva ultima parola in sala stampa la trasmissione sportiva di punta del Palinsesto. Condotta dal direttore Umberto Teghini esaminerà come sempre tutti i temi che ha lasciato in eredità il fine settimana in Lega Pro Serie A e Serie B. Ospite in studio l'attaccante Valerio Anastasi del Messina, ex Catania. Più di tre ore di sport a tutto tondo, il ricco panorama di Ultima TV.